Check-up oculistici gratuiti con verifica della pressione oculare verranno effettuati da lunedì 13 a venerdì 17 marzo in piazza Garibaldi a Caltanissetta, all'interno dell'unità mobile oftalmica, un camper itinerante attrezzato di specifica strumentazione oculistica. L'iniziativa, voluta a livello nazionale dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, in collaborazione con la sezione territoriale UICI di Caltanissetta, si svolge in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, malattia oftalmica spesso silente dovuta generalmente ad una pressione oculare troppo alta che, quando non curata, può danneggiare il nervo ottico. All'interno dell'apposito stand saranno inoltre distribuiti opuscoli informativi appositamente predisposti. L'UICI invita la cittadinanza a non perdere questo significativo appuntamento di prevenzione e sensibilizzazione. Un semplice controllo oculistico può permettere di riconoscere questa malattia, quando i sintomi non si sono ancora manifestati e proteggere i nostri occhi.